Finalmente, anche se in ritardo, il Comune di Tortora ha il suo albo pretorio online. Adesso però dobbiamo informare i cittadini di questo importante strumento. Lo dice il consigliere di minoranza nonché capogruppo in consiglio comunale di nuovamente Tortora, Giovanni Pagano. Tutti i cittadini hanno la possibilità, spiega Pagano, di consultare gli atti amministrativi collegandosi semplicemente al sito internet del Comune di Tortora. Questo, continuo, è un grande passo avanti per la pubblica amministrazione, ma soprattutto uno strumento che dà pubblicità legale ai fini dell'efficacia degli atti. Per questo, conclude il consigliere di minoranza di nuovamente Tortora, è giusto che ci si attivi subito per informare la popolazione. L'attivazione dell'albo pretorio online è obbligatorio. In un primo momento tutti i comuni dovevano provvedere alla pubblicazione dal 1 gennaio 2010, con una proroga e il termine è poi slittata al 1 gennaio 2011. Al momento, con l'approvazione del decreto 1.000 proroghe, non è stato previsto nessun rinvio. Pertanto, tutti gli enti devono mettersi in regola. Infatti, le sole pubblicazioni cartacee non produrranno più effetto di pubblicità legale. Invito il comune di Tortora, conclude Pagana, ad inserire nell'albo pretorio online anche le determine di spesa, tutto nel nome della chiarezza e della trasparenza amministrativa. Al momento si potranno visionare sull'albo online determine di giunta, di consiglio, permessi di costruzione e tutto ciò che concerne l'attività amministrativa.